Vi invitiamo inoltre a seguirci sul nostro profilo Instagram, dove quotidianamente vi raccontiamo il Festival. Vi preghiamo di silenziare i vostri apparecchi elettronici e di partecipare numerosi all'iniziativa di Bergamo Scienza. Grazie per l'attenzione e buon ascolto. Buonasera a tutti, a tutte, benvenuti. Mi sentite? Sì? Beh, allora, ho un grandissimo piacere questo pomeriggio di introdurre molto brevemente la relazione che adesso ci terrà il nostro ospite, Steve Maiten. Steve, benvenuto a Bergamo Scienza e benvenuto... Benvenuto a discutere con noi di un tema che vedrete molto particolare, molto originale e spero molto affascinante non solo per me ma anche per voi. Steve Maiten è un archeologo di formazione, lo fa anche di mestiere, è impegnato sul campo, lavora in siti in Scozia, ha lavorato in siti in Giordania, in diverse altre parti del mondo. Si occupa di un periodo particolare che è quello, diciamo, a cavallo tra gli ultimi gruppi di cacciatori e raccoglitori che hanno vissuto in Medio Oriente e in Europa e poi l'arrivo dei neolitici. Però Steve Maiten, che lavora all'Università di Reading in Inghilterra, ha una formazione molto interdisciplinare, quindi usa dati archeologici ma anche dati biologici, genetici e li unisce per cercare di ricostruire la storia passata delle popolazioni, potremmo dire, dei nostri antenati diretti o indiretti. Steve Maiten è diventato molto noto alla metà degli anni 90 per un libro che si intitola La preistoria della mente e poi per un altro che è stato tradotto in italiano, lo potete trovare, e un altro molto noto nel 2005 che si intitola The Singing Neanderthal, il Neanderthal che canta, tradotto in italiano il canto degli antenati. E adesso sta lavorando a un altro testo interessante di cui ci parlerà oggi che si intitolerà The Invention of Words, l'invenzione delle parole, quindi sull'evoluzione del linguaggio. Qual è il tema di fondo, e con questo poi do la parola a Steve, il tema di fondo di cui si occupa Steve Maiten è appunto l'archeologia della mente di Homo sapiens, ma anche di Homo sapiens in comparazione con la mente delle altre specie umane che sono vissute, lo sappiamo, fino a tempi molto recenti, anche in Europa, come nel caso di Neanderthal o di Denisova in Asia. Perché l'archeologia della mente? Perché allo stato attuale, per chi come me anche studia l'evoluzione umana, c'è un grande punto interrogativo che attende ancora una risposta. Homo sapiens, lo sappiamo, è nato in Africa tra 200 e 300 millenni fa, dopo alcune decine di millenni esce dall'Africa e comincia ad occupare tutta l'Eurasia e poi arriverà anche in Australia, poi nell'America, per un lungo periodo convive con altre specie umane, ne parleremo dopo in alcuni casi anche accoppiandosi e ibridandosi con altre specie umane. Poi però Homo sapiens comincia a esibire comportamenti inediti, nuovi, pitture rupestri, sepolture rituali, ornamenti del corpo, nuove tecnologie, oggetti con sopra dei segni che evidentemente volevano dire qualcosa. Quindi tutto ciò che noi associamo alla cosiddetta intelligenza simbolica. Cosa è successo? Perché Homo sapiens ha avuto questo cambiamento comportamentale? Che poi è quello che ci ha portato sin qui, no? E che poi tra l'altro è associato anche all'estinzione di tutte le altre specie umane che sono sparite tutte fino a sopravvivere fino a 40 millenni fa o poco più. Quindi Steve Maiten si occupa di questo mistero, dell'archeologia della mente, di come possiamo capire in che modo il cervello umano è cambiato fino ad arrivare all'intelligenza umana moderna che poi sappiamo a quale storia ci ha portato ed è quella che usiamo ancora o sperabilmente dovremmo usare ancora noi oggi in questo periodo. Se vediamo di non estinguerci prima come stiamo tentando di fare in vari modi in questo periodo. Quindi Steve ancora benvenuto, lui adesso ci farà una sorta di overview generale breve e sintetica sulle sue ricerche in questo momento e poi ci sarà ampio spazio per domande mie ma soprattutto vostre. Quindi preparatevi poi a interagire con Steve. Steve a te la parola e grazie ancora di essere qua. Mi spiace ma di italiano so solo quello. Ma vorrei sicuramente ringraziare i traduttori per render accessibile il mio discorso a voi questa sera. Bene io questa sera parlerò dei Neandertal. Come vedete qui ecco la loro ricostruzione la vedete sullo schermo qui. Quindi andrò a spiegare sostanzialmente come in tanti modi diversi sono così simili a noi ma in maniere anche per alcuni aspetti cruciali sono anche molto diversi. E imparando quelle che sono le loro differenze impariamo anche tante cose su di noi oggi. Bene quando io parlo della mente, della mente umana non intendo semplicemente il cervello, non parlo solo di questo. Io la vedo come una mente diffusa, un'entità distribuita. Per esteso intendo per esempio la tecnologia che noi utilizziamo per estendere delle capacità mentali, quello che ci ricordiamo. Per esempio noi usiamo i nostri telefoni per tenere i numeri di telefono dei nostri amici piuttosto che i computer per fare l'aritmetica che non riusciamo a fare noi. E dicendo mente anche distribuita intendo che noi ci affidiamo molto spesso ad altre persone. Quindi se per esempio devo ricordare tanti compleanni della famiglia o come usare il telecomando, ecco io non ne ho bisogno perché basta chiedere a mia moglie come si fa e lei che se lo ricorda. E quindi praticamente abbiamo una capacità mentale che viene distribuita tra di noi. Le parole che noi usiamo sono una forma di mente estese perché alle volte noi usiamo parole proprio come ancore per ancorare questi concetti complessi nelle nostre menti senza che però noi possiamo riuscire a parlarne direttamente. E lo usiamo anche per raccontare alle persone quello che noi pensiamo. Ora io penso che i Neandertal anche loro avevano delle menti sia estese che distribuite, però leggermente diversa la natura rispetto a quelle che abbiamo noi oggi. La natura di queste menti è leggermente diversa. Ora qui vediamo alcune delle differenze tra i Neandertal e tra gli umani moderni. Naturalmente tutti noi qui in questa sala, anzi direi tutti sul pianeta oggi, è un umano moderno, quindi praticamente della specie Homo sapiens, facciamo tutti parte. I Neandertal si sono evoluti in Europa circa 300 mila anni fa. La popolazione poi si è diffusa nell'Asia centrale e poi invece si sono estinti circa 40 mila anni fa. Ora la nostra specie è quella dell'Homo sapiens, anche noi ci siamo evoluti in Africa ed era più o meno lo stesso periodo. Quindi diciamo che in questo periodo sono diventate proprio evidenti queste caratteristiche, però poi abbiamo attraversato dei cambiamenti cognitivi e comportamentali e questo circa 80 mila anni fa. E poi ci siamo diffusi in Asia, in Europa e man mano che ci appunto sparpagliavamo in questi, anche altri tipi di umani che erano vivi in quel periodo, che non erano soltanto i Neandertal in Europa, c'erano anche i Denisovi per esempio in Asia, l'Homo erectus, ecco tutti si sono estinti in quel periodo, in quell'arco temporale. Ora in queste immagini potete vedere come i Neandertal che vedete alla vostra sinistra e l'Homo sapiens invece che vedete sulla vostra destra, ecco voi potete vedere come ci siamo evoluti da un antenato comune, l'Homo heidelbergensis in Africa. Circa 600 mila anni fa, poi le nostre traiettorie per diventare l'Homo sapiens in Africa e Neandertal in Europa, vedete che si sono divise queste traiettorie, quelle traiettorie verso i Neandertal in Europa è avvenuta circa 250 mila anni fa e ha creato una specie chiamata Denisova. Ora noi effettivamente non li conosciamo molto, lo conosciamo solo grazie del DNA antico e parlerò proprio della importanza di questo DNA antico che appunto abbiamo e che fa parte della nostra comprensione dei Neandertal oggi. Vediamo il tempo e il mondo dei Neandertal, loro erano sicuramente una specie che ha avuto grosso successo che ha vissuto appunto in Europa, qui possiamo vedere in questa mappasi appunto questa era l'estensione dei Neandertal, della popolazione fino all'Asia centrale e arrivava anche al vicino oriente appunto quello che potrebbe essere l'odierno Israele. hanno attraversato dei cambiamenti ambientali e climatici molto importanti, come vedete nel grafico sotto potete vedere i cambiamenti di temperatura che sono avvenuti nel corso degli ultimi 300 mila anni. Ora quando quella linea è su significa che il periodo è caldo, è interglaciale come il periodo che stiamo vivendo noi adesso, quando invece è basso la linea era un era glaciale, quindi quando la temperatura è molto bassa l'Europa settentrionale era coperta da coltri di neve, c'era la tundra che arrivava praticamente fino all'Europa del sud, l'Italia del nord si avrebbe avuto dei boschi, ma però sarebbe stata molto secca, invece nei periodi più caldi, quelli interglaciali, ci sarebbero state più estensioni di foreste, quindi l'Italia del nord sarebbe stata una foresta molto densa, con i cervi e con tanta selvaggina e ovviamente loro hanno vissuto attraverso questi cambiamenti climatici e quindi si sono adattati in maniera molto efficace perché sono passati da uno all'altro. Erano bravissimi cacciatori, loro erano veramente quelli che noi chiamiamo predatori topi, loro fisico erano più bassi di noi, erano più muscolari, più tozzi diciamo, sicuramente molto più forti e questo sembra essere un adattamento a quelli che erano degli stili di vita molto complicate e anche il vivere in ambienti molto freddi si erano adattati a questo. Per predatori top noi sappiamo che loro praticamente cacciavano i mammut, ma non solo i bisonti, i cervi, questi sono animali che sono diffusi in tutte le tundre europee, tutti i boschi europei. Alla volta andavano a cacciare anche altro, magari i lupi per esempio, per prendere le loro pellicce per potersele usare. Sappiamo che anche i Neandertal stessi talvolta venivano cacciati loro dai leoni e sicuramente c'erano le iene che li attaccavano anche, quindi subivano questi attacchi. Per fare questa caccia loro riuscivano a creare queste lance incredibili. Veramente sembravano dei giavellotti moderni, come questi che sono stati scoperti di 350.000 anni fa, pensate. Queste lance di Schöningen in Germania facevano anche lance molto più corte, con queste punte di pietra bellissi che legavano appunto a questi pezzi di legno utilizzando questa colla vegetale, piuttosto che gli intestini degli animali e facendo questa resina a base di corteccia di betulla. Quindi erano davvero molto molto bravi e piuttosto sofisticati nella costruzione di questi. Pensiamo anche che avessero un'estesa conoscenza in generale e utilizzavano il cibo di piante. Ora ovviamente queste piante non è che sopravvivono nel tempo, ma abbiamo evidenze che suggeriscono che loro avessero una conoscenza dettagliata, estesa di quello che era anche il mondo naturale. Qui in questo disegno, in questa piccola mandibola che vediamo che viene dal Sidon in Spagna, ecco, questa appunto, praticamente sono i denti di un Neandertal. Dal calcolo, dal tartaro dei denti, siamo stati in grado di prendere, togliere una parte di questo tartaro ed estrarre da questo del DNA vivente che sopravvive ancora. E questo ci racconta molto del cibo che i Neandertal mangiavano. E questo mostra, per esempio, che questo Neandertal particolare, per esempio, mangiava pinoli, funghi e anche il muschio alle volte. E quindi non si mangiavano soltanto, non si basavano solo sulla caccia degli animali. E uno di questi, di El Sidon, presentava un ascesso importante. Ovviamente avevano spesso denti malati. E quando abbiamo visto questo ascesso, c'erano delle foglie di pioppo. Ora, il pioppo non è ottimo da mangiare, diciamocelo, però contiene l'acido salicilico. Praticamente questo è l'ingrediente principale dell'aspirina. E quindi questo Neandertal magari poteva possedere questa conoscenza medica e si stava curando, mangiando appunto foglie di pioppo. Quindi avevano una conoscenza veramente notevole di quello che potevano fare con le piante, mangiarle oppure utilizzarle. Ora, la loro tecnologia la conosciamo attraverso i loro utensili in pietra. La maggior parte dei loro utensili venivano fatte da osso, da anche pelle, da anche materiali tipo legno. Ecco, ma questo non è riuscito a sopravvivere. Questo materiale ovviamente non sopravvivere. Invece quello in pietra è sopravvissuto in abbondanza. Abbiamo centinaia di migliaia, anzi milioni probabilmente, che vengono da diverse grotte, caverne che sono state trovate in tutta Europa. E noi sappiamo che praticamente erano molto molto abili, dei lavoratori della pietra, molto molto abili. Come vediamo nella raffigurazione questo? Vediamo queste punte appunto di Le Valois. Usavano questa tecnica che usavano con la selce, e quindi praticamente riuscivano a togliere questa punta importante dalla selce che poi veniva applicata su una lancia. E quindi, come ho detto, molto bravi, molto abili. Ma la cosa strana è una, qual è? Che la loro tecnologia non è cambiata nel tempo, è rimasta invariata, è rimasta sempre costante, sempre allo stesso livello. Ora, uno pensa che quando uno è bravo nel fare una cosa, si continua ad innovare, non normalmente si innova, si cambia, si rinnova. Pensate come sono cambiati, per esempio, negli ultimi 10-20 anni i nostri telefoni, sono sempre migliorati. Ecco, la loro tecnologia invece è rimasta invariata nel tempo. Se vediamo la destra di questa diapositiva, ecco che possiamo vedere una sequenza importante di depositi in questa grotta di Tabun che si trova in Israele. Questa risale a 250.000 anni fa, originariamente, e arriva fino a 45.000 anni fa per quanto riguarda la parte più alta, superiore, quindi 250 in basso. Quindi, in tutto questo tempo, la tecnologia dei Neandertar praticamente non è mai cambiata, nonostante tutti i cambiamenti che ci sono stati a livello ambientale, a livello di clima, a livello degli animali cacciati o delle piante raccolte. Qui possiamo prendere anche degli utensili che hanno fatto, che si trovino in Italia, che si trovino in Francia, in Spagna o anche nell'Asia centrale, sono sempre praticamente gli stessi, ovunque siano stati trovati. Questo è qualcosa di molto strano. Abbiamo quindi un Neandertar che effettivamente sono estremamente intelligenti e bravi nel fare questi utensili in pietra, ma non sono mai riusciti ad innovare, a cambiare, a migliorarli. Questo è un po' un mistero. Sappiamo anche che i Neandertar probabilmente erano socialmente intelligenti, quindi avevano un'intelligenza emotiva. E come facciamo a saperlo? Beh, sappiamo innanzitutto che il loro massa cerebrale era grande quanto la nostra, cioè 1200 cm3 di capacità. Ci sono prove dallo studio dei primati, per esempio, del fatto che l'aumento della dimensione del cervello è stato determinato da un'intelligenza sociale sempre migliore, cioè la capacità di fare amicizia, di costruire delle alleanze, di elaborare il pensiero di altri, ci vuole per farlo grande capacità mentale. Questo era dovuto al fatto che il cervello aveva una certa dimensione. Ma pensiamo anche alle attività dei Neandertar, che avrebbe sicuramente richiesto tanta collaborazione, perché erano sicuramente cacciatori e quindi se si va a caccia di un bisonte occorre fidarsi l'uno dell'altro perché devo sapere quando lanciare la mia lancia al momento giusto, mentre distrae il bisonte o altri animali, altrimenti io verrò appunto calpestato. Quindi la fiducia è fondamentale, così come la condivisione del cibo è essenziale. Sappiamo anche che i Neandertar si occupavano dei malati, dei disabili, perché tanti sono gli esempi che ci mostrano come magari fossero feriti, però sopravvivessero. Quindi c'era qualcuno che si occupava di loro, quindi c'erano dei legami sociali molto forti. E poi alcuni Neandertar sono anche stati sepolti, quindi ci si occupava di qualcuno, di malato, ma anche di defunti, quindi non si voleva che le iene, per esempio, li divorassero, quindi venivano sepolti. Quindi vi sono queste prove di cura per l'altro nella società Neandertar. Nel mio libro del 2005, cioè il canto degli antenati, sostengo che la danza, il canto insieme fosse una modalità per costruire i legami sociali, fiducia, collaborazione, così come avviene oggi, peraltro. Quindi i Neandertar sono decisamente intelligenti dal punto di vista sociale. Poi ci sono delle specie, gli umani, che si sono diffusi dall'Africa 80.000 anni fa, alcuni hanno detto 60.000, altri prima comunque ci siamo diffusi nell'Africa orientale del sud, poi dal nord dell'Africa siamo passati nel sud dell'Asia inizialmente, poi il sud-est asiatico e abbiamo costruito le barche per colonizzare l'Australia e poi la Nuova Zelanda. Alcuni si sono spinti al nord, lo stretto di Bering e poi in alcuni paia di migliaia di anni sono arrivati alla terra del fuoco. Quindi diverse migrazioni, tanti ambienti diversi e quindi occorrevano nuove tecnologie per raggiungere queste destinazioni estremamente lontane dall'Africa. Alcuni gruppi si sono spinti in Europa, però questo almeno fino a 45.000 anni fa non era avvenuto. Man mano che ci diffondevamo a livello mondiale, la nostra specie si è ibridata con gli esseri umani che già esistevano su quelle terre e in molti casi c'era appunto un incrocio tra il Neandertal e l'uomo moderno. Non sappiamo in che forma venisse questo rapporto sessuale, ma sicuramente sono nati dei figli della prole. Questo significa che abbiamo tutti ereditato i geni dei Neandertal, quindi tutti coloro che sono qui seduto e anch'io conteniamo almeno un 2-4% di codice genetico dei Neandertal. E poi vi era anche un'ibridazione con i Denisova, soprattutto nell'Asia orientale. Quindi questi incroci furono estremamente importanti e furono un altro segnale di come in realtà l'homo sapiens e i Neandertal fossero simili. Quando gli esseri moderni, umani, sono arrivati in Europa circa 45.000 anni fa, si sono diffusi rapidamente in tutto il continente europeo. e hanno portato con sé delle nuove tecnologie, soprattutto queste punte costituite da frammenti ossei che venivano utilizzate come armi. Queste punte differivano, alcune avevano lama molto sottile, lunga, oppure hanno anche realizzato delle immagini di animali, quindi arte figurative, poi dipinti sulle pareti delle caverne, si sono diffuse in tutta l'Europa rapidamente e per circa 2.000-3.000 anni hanno convissuto il Neandertal e l'homo sapiens e poi invece a un certo punto i Neandertal si sono estinti. Sappiamo che gli esseri umani moderni avevano delle cifre demografiche elevate su questa slide. Vi mostro con il grafico la misurazione demografica sulla base dei siti archeologici, numero di animali, macellate, questo da parte degli ultimi Neandertal e i primi umani moderni. Quindi ci furono tanti europei che arrivarono, scusate, moderni, uomini moderni che arrivarono in Europa, scusate, ma c'è stato un problema tecnico, comunque hanno continuato a modificare la propria tecnologia, fiorendo, prosperando, quindi circa 20.000 anni fa. I ghiacciai si sono diffusi dall'Europa del nord, quindi tutta la regione fino al nord della Francia è diventata una tundra con la scomparsa della vegetazione, il nord dell'Italia era una terra nuda e tuttavia hanno sviluppato nuove metodologie di utensili, hanno costruito appunto dei rifugi, hanno costruito delle armi, hanno inventato nuovi strumenti, addirittura hanno realizzato dipinti sulle pareti delle grotte. Quindi gli esseri umani moderni hanno continuato a modificare la propria cultura e da allora l'hanno fatto. Vediamo che oggi ci troviamo a Bergamo, in questa città meravigliosa, è un'architettura stupenda che ho apprezzato nelle ultime due giornate. Quindi qua passiamo al quesito chiave. Perché noi siamo sopravvissuti e i Neandertal invece si sono estinti? Ora ricordate che i Neandertal si erano evoluti proprio in Europa, quindi si erano adattati a vivere in questi ambienti del nord e questo per circa 250.000 anni, quindi fisiologicamente e culturalmente erano adatti a questi territori, mentre l'homo sapiens era proveniente dall'Africa e quindi si era evoluto a basse latitudini, quindi senza esperienza di vita nelle tundre del nord, nel gelo, abituato alle savane. E allora com'è che sono arrivati in Europa e hanno sostituito i Neandertal rapidamente, in pochissimi anni, migliaia di anni. Allora, prima di procedere però, volevo presentarvi alcuni Neandertal italiani. Sono Neandertal che vissero in Italia e vi sono anche dei reperti fossili molto importanti in Italia. Il primo che vi mostrerò è noto come l'uomo di Altamura. E lo potete vedere? Eccolo lì. E' praticamente incassato in calcita in una grotta nel sud dell'Italia. La calcite ha una formazione per cui assomiglia al popcorn. E' come se vivesse coperto da una serie di perle, no? L'aspetto è quello. E poi l'uomo di Altamura è stato trovato nella città di Altamura, nel sud dell'Italia, nella grotta La Malunga. Non l'ho ancora visitata, questa grotta, e non vedo l'ora di andarci, probabilmente la prossima estate. Si tratta di una grotta con tanti passaggi, caverne profonde. E lo scheletro fossilizzato è stato scoperto nel 1993. E quindi è un maschio adulto, giovane, ben preservato. Praticamente lo scheletro è quasi completo. E probabilmente è entrato nella grotta ed è caduto in un fosso. E lì è morto di fame, non è riuscito ad uscire da questo fosso. Non ci sono manufatti associati, non ci sono altri esseri viventi. Semplicemente è caduto in questo buco e è rimasto intrappolato lì. I geologi hanno datato la calcite, che lo ricopre, per cui risale dai 172.000 a 130.000 anni fa. Probabilmente è vissuto in quel periodo, no? E visto che è così incassato nella calcite, soltanto tre frammenti ossei sono stati rimossi, in particolare la scapola, e la vedete nell'immagine. Quindi siamo riusciti a quel punto anche a estrapolare del DNA antico da questa scapola. E poi quello che sappiamo è la dentatura che è stata studiata con delle telecamere. Siamo riusciti a fare arrivare dei cavi, abbiamo esplorato la sua bocca. Per esempio, vedete che gli mancavano due denti, probabilmente prima della morte, una ferita, cioè il vuoto si era ancora rimarginato, poi tanto tartaro, alcune delle radici erano già esposte, quindi sicuramente aveva delle gengive malate. E poi aveva un'escrescenza ossea sul palato, che probabilmente lo si trova anche negli esseri umani moderni, non crea danni. E poi vi è anche uno spazio che è chiamato retromolare, tra l'ultimo molare e l'inizio della mandibola, che è tipico dei neandertagliani, quindi questo ha dimostrato che appunto apparteneva a questa specie. Adesso osserviamo un altro reperto, che ci viene dalle grotte Guattari, che si trova sulla penisola di Cicero. E questo cranio è stato scoperto nel 1939, è datato tra 60 e 50 mila anni fa, appartiene ad un adulto, adesso non sappiamo ancora se è un maschio o una femmina. Per quanto riguarda questo cranio, vediamo delle orbite oculari grandi, così come la cavità nasale grande e le arcate sopraccigliari. Queste sono caratteristiche tipiche dei neandertagliani, molto diverse da quelle che sono le tipiche caratteristiche degli esseri umani moderni. Questo cranio è stato ritrovato da lavoratori, da operai che estraevano la pietra, è stato trovato in un cerchio di pietre. La base del cranio, che è noto come foro cipitale, era stato, per così dire, allargato. E all'inizio si pensava che fossero stati altri uomini ad estrarre il suo cervello per mangiarlo, quindi una forma di cannibalismo. In realtà adesso sappiamo che non è così, perché se si osserva meglio il cranio si vede che ci sono delle impronte di denti di Iena che probabilmente l'hanno sbranato. Ma altrove comunque in Europa sono state trovate prove di cannibalismo tra i neandertal e perché ci sono proprio dei segni tangibili di cannibalismo su questi reperti ossei. Nel 2019 sono stati fatti nuovi scavi in questa grotta e hanno trovato altri nove individui di neandertal tra i 50 e i 68 mila anni fa. E poi anche sono state ritrovate ossa di Iena, di elefanti, ci scusiamo, ci sono ancora problemi di connessione. E questo è una conferma che questa grotta fosse una tana di Iena e trascinavano i cadaveri dei neandertal per mangiarli e probabilmente erano andati a caccia di uomini di neandertal e poi li divoravano in questa tana. E l'altro reperto di neandertal di cui voglio parlare è quello che proviene da sacco pastore. Si traduce in inglese come sacco del pastore, appunto. Era una cava di Ghiaia sulle periferie di Roma. Nel 1929 è stato trovato questo cranio ottimamente preservato in questa cava in sedimenti che avevano circa 130 mila anni. Quindi nel 1935 è stato trovato un altro frammento. e potete vedere qui il calco, la ricostruzione. E a destra vedete appunto il calco. Il calco è praticamente una mappatura dell'interno del cranio che cattura bene quelli che sono per esempio i vasi sanguigni, le pliche cerebrali e quindi ci dà un'ottima idea di quello che era il cervello del Neandertal. E poi questo è tipico. Beh, è proprio è così piatto questo cranio e questo è importante per i Neandertal. Ve lo spiego dopo perché. Allora, ritorniamo alla domanda che vi ponevo all'inizio. Perché noi siamo sopravvissuti e i Neandertal si sono estinti. Beh, la risposta risiede nei geni dei due tipi di umani. Ebbene, negli ultimi anni abbiamo assistito ad una rivoluzione con la paleogenomica cioè l'estrazione di DNA antico da reperti fossili e questo è successo dopo la capacità di ricostruire o identificare il genoma umano. Nel 2014 il primo genoma di Neandertal completo è stato sequenziato proprio da questo ossicino che è stato trovato in una grotta di Desinova e in Siberia. Un appunto piccolo ossicino. Ci sono dei problemi di connessione cerchiamo di fare il nostro meglio. E confrontando questi reperti con quelli dell'essere umano moderno possiamo dire che praticamente tutti noi abbiamo nel nostro DNA un 2-4% dei geni del Neandertal e quindi significa che poi diverse persone hanno diversi geni di Neandertal quindi praticamente tra il 30-70% del genoma dei Neandertal sopravvive nel mondo moderno negli esseri umani moderni questo è straordinario quindi praticamente i Neandertal sopravvivono in noi e questo è un concetto molto profondo che colpisce che cosa abbiamo appreso dal genoma dei Neandertal innanzitutto che la loro diversità genetica è molto basso quindi se venivano a incrociarsi erano più simili tra di loro che con noi e poi vi erano tanti incroci con consaguini Neandertal per esempio abbiamo trovato in una grotta di Denisova un reperto di una donna si sapeva che i genitori erano fratellastri e si accoppiavano tra parenti stretti questo era una cosa molto diffusa per gli antenati quindi tanti incroci consanguini e sappiamo che cos'è l'effetto dopo perché porta delle mutazioni molto negative con una deriva genetica di conseguenza e i genetisti hanno stimato che i Neandertal fossero meno in forma degli esseri umani moderni di almeno il 40% proprio per queste incroci tra consanguini Magara questo incentivo appunto a accoppiarsi tra di loro è molto legato a un tentativo per cercare appunto di aumentare la loro diversità genetica potesse legato a questo e ovviamente questo portava magari a un basso livello questa di fertilità che cosa suggerisce questo suggerisce che gli Neandertal erano una popolazione piuttosto fragile e molto sensibile in realtà a quelli che erano i cambiamenti sia climatici che ambientali e probabilmente anche sensibili a questa nuova popolazione che arrivava e che competeva con loro noi che cosa abbiamo ottenuto attraverso questo incrociandoci con loro beh parecchio devo dire abbiamo ottenuto davvero parecchio in tante aree del nostro genome c'è stata questa avversione si andava contro questi geni ma alcuni dei geni che abbiamo ereditato sono stati favorevoli per noi fino al passato ma anche al mondo attualmente quindi alcuni dei geni che noi abbiamo ereditato praticamente hanno dato a questi umani moderni l'immunità rispetto a certe patologie a certe malattie che si trovavano nell'Europa del nord e che non avevano incontrato invece in Africa quindi la prima cosa vantaggio l'immunità poi migliorava anche l'adattamento della pelle alla luce del nord diciamo all'ambiente del nord e poi noi sappiamo che tanti di noi abbiamo dei geni anche nei nostri capelli e si dice che i geni del neandertal hanno aumentato la propensione alla calvizie non so perché ma i geni antisti trovano questa una cosa positiva non so bene perché poi i geni i geni ereditati hanno portato una maggiore densità ossea una maggiore capacità polmonare e anche una diciamo una più giovane età di menopausa questo era positivo per i genetisi ovviamente questo si è correlato poi a quello che era il nostro materiale genetico e quindi sono degli adattamenti migliori a ambienti a latitudini più alte quindi noi ne abbiamo beneficiato e aiutate la diffusione degli esseri umani moderni anche alle latitudini più settentrionali vi sono comunque alcune parti del genoma umano in cui invece non si trovano questi geni di neanderthal dove non ci sono vengono chiamati deserti di introgressione o di ibridazione perché lì non era possibile arrivare i geni non riuscivano ad arrivare uno di questi sono i testicoli osservando tutti la genetica degli esseri umani non ci sono segni di geni di neanderthal in questo luogo in questa parte del corpo questo probabilmente perché i geni di neanderthal avrebbero diminuito la fertilità dei maschi e quindi c'è stata una selezione contro questi geni l'altra area dove c'è questo deserto di ibridazione o di introgressione è il cervello umano ecco anche questo appunto è un deserto non ci sono segni di geni ed è affascinante quando si inizia a pensare alla mente alle funzioni cognitive che non sono appunto state ereditate quindi vediamo il cervello dell'uomo di neanderthal e di quello dell'uomo moderno ora su questa diapositiva potete vedere l'uomo di neanderthal sulla vostra sinistra e quello dell'uomo moderno invece sulla vostra destra vediamo che la capacità è identica le dimensioni sono uguali entrambi sarebbero selezionati per una maggiore intelligenza sociale quello moderno un po' più globoso più globulare e di fatto il cranio ha più questo aspetto ora spesso viene detto che la quantità proprio di capacità neuronale nel cervello del neanderthal e in quello dell'uomo moderno era dedicata indirizzata verso compiti diversi guardate il neanderthal avevano queste appunto queste orbite molto grosse quindi occhi anche molto grandi e quindi la maggior parte del cervello veniva dedicato alla corteccia cerebrale quindi praticamente per consentire a questi occhi grandi di essere usati in magnificacia c'era più capacità cerebrale in quell'area in maniera uguale avevano una massa corporea maggiore rispetto agli esseri umani moderni e quindi la capacità cerebrale veniva usata principalmente per gestire il corpo il controllo di questo per esempio e questo lascia meno spazio cerebrale disponibile per esempio per compiti invece di natura più sociale e quindi mentre entrambi hanno un'intelligenza sociale diciamo che negli esseri umani moderni questa era più accentuata era maggiore questo tipo di intelligenza vediamo l'area di geni particolari nei moderni che i neandertal non riuscivano invece a penetrare ora un'area chiave nel cervello moderno una serie di geni che praticamente vanno a guidare gli assoni dei neuroni come sapete il cervello è composto da miliardi di neuroni e loro trasmettono dei tentacoli come assoni che si collegano ad altri neuroni e questo crea la nostra rete neurale nel cervello che ci consente di fare dei compiti piuttosto complessi come per esempio quelli del parlare piuttosto che il pensiero astratto ora negli umani moderni i genetisti cercano di identificare hanno cercato di identificare i geni per questo come il Fox Sp2 lo Slate 2 lo Slate 2 il Robo 2 che cosa fanno questi guidano gli assoni per consentire loro di creare dei collegamenti e di evitarne invece altri i geni del Neandertal non riuscivano a penetrare quest'area per niente non potevano entrarvi e quindi non avevano questi geni che potevano essere più efficaci di questi e quindi sono stati non selezionati per questo quindi dopo questa divergenza appunto dai Neandertal sembriamo che noi siamo stati guidati verso delle modifiche per arrivare a queste reti molto complesse il che ci ha dato un certo livello di connettività che i Neandertal probabilmente non avevano tutti questi livelli di connessioni altre scoperte molto importanti tra l'altro una importantissima è stata annunciata un mese fa in questa rivista molto importante il Journal of Science è stata pubblicata questa novità c'è un gene particolare che si chiama TLTK noi sappiamo che TK è appunto che è molto importante per creare dei neuroni nel feto è stato trovato che dopo oltre 500.000 anni fa le varianti di quel gene praticamente nei moderni avevano visto una mutazione che ha cambiato un solo aminto acido di questo gene TKTL questo gene mutato alla fine che cosa fa crea attraverso un percorso di un certo tipo un'alta densità di neuroni rispetto a quel gene che invece quella versione dei geni che il Neandertal ha mantenuto e questo è stato testato anche in laboratorio attraverso questi organuli che sono proprio dei piccoli elementi delle strutture molto piccole del cervello questi organoidi cerebrali mini strutture simili al cervello cresciute da cellule staminali quindi qui abbiamo la versione del Neandertal di quel gene che crea una quantità più bassa di neuroni nel cervello rispetto invece a quella dell'uomo moderno dell'uomo sapiens quindi in questo modo sembriamo avere cervelli noi che hanno una maggiore capacità per quelle che possono essere reti neurali più complesse anche se le dimensioni come vedete sono le stesse quindi per riassumere quello che abbiamo detto sui geni noi sappiamo che tra i Neandertal c'era un accumulo diciamo di mutazioni cosiddette deleterie appunto queste derivavano dalla consanguinità eccetera anche la condizione fisica era pari a circa il 40% di quelle degli esseri umani moderni la maggior parte dei loro cervelli era dedicata alla visione al controllo del carpo mentre appunto noi avevamo più neuroni più cognizione sociale più connettività più connessioni ecco quindi queste è come apparivano le reti neurali quindi sulla base delle evidenze genetiche sembra che i Neandertal vivessero per esempio in piccoli gruppi fossero molto frammentari molto dispersi dovevano accoppiarsi tra di loro mentre gli umani moderni vivevano in gruppi più grossi erano meno sparpagliati e le loro reti sociali erano molto più strette molto più intense questo ci porta al problema o alla questione della linguaggio noi sappiamo che venendo dall'Africa gli esseri umani moderni probabilmente ai tempi era complessa quanto quello odierna ma in Neandertal che tipo di linguaggio avevano invece gli archeologi gli antropologi i linguisti tutti hanno parlato di questo e hanno discusso di questa cosa per molto tempo noi sappiamo adesso o comunque c'è un consenso generale che la parte vocale dei Neandertal potesse generare dei suoni proprio come poteva fare l'homo sapiens questo lo possiamo fare ricostruendo anche vari pezzi di evidenza anatomica non è facile perché la vocalizzazione è diversa anche dai tessuti molli come la glottido o la lingua e qui non è rimasto niente di tutto ciò ma c'è un consenso generale che dice che i Neandertal potessero fare gli stessi suoni che possiamo fare noi quindi probabilmente avevano un linguaggio o potevano averlo e potevano anche udire gli stessi suoni noi abbiamo ricostruito il tratto uditivo questo è più facile perché si basa su comunque piccoli ossi diciamo e ne abbiamo trovati in alcuni come il malleo gli ossicini degli orecchi eccetera e l'udito del Neandertal è praticamente identico a quello nostro di adesso quindi Neandertal potevano parlare e potevano sentire proprio come noi ma però le lingue o il linguaggio era probabilmente diversa se consideriamo il linguaggio dei persone nel mondo oggi ecco che vediamo che esiste una differenza importante tra il linguaggio di quelli che vivono in gruppi isolati e piccoli dove le persone parlano solo tra di loro praticamente e quelli che invece abitano comunità più grandi con persone che arrivano a trovarli e che magari parlano altre lingue la differenza è che nelle piccole popolazioni la lingua è molto diciamo non è più semplice perché hanno per esempio più morfologia hanno molta irregolarità un maggiore numero di fonemi perché si conoscevano tutti così bene sapevano già cosa sapeva l'altro e quindi non è che dovessero spiegare tanto quelle parole invece in gruppi più ampi e la lingua solitamente è più trasparente si basa su regole sono più facili da imparare e quindi sembra molto probabile che i Neandertal avessero diciamo un linguaggio piuttosto complicato gli Homo Sapiens avevano invece una lingua come oggi viene chiamata più trasparente anche le parole erano diverse sicuramente adesso questa è una teoria sulla quale sto lavorando adesso io sto studiando molto materiale linguistico diciamo che le parole ci sono due gruppi per le parole una sono parole iconiche per non so pensiamo pop quelle un po' onomatopeiche ma ce ne sono anche tante altre iconiche non so per esempio le parole per i piccoli animali non so bee ant vespa per gli animali piccoli in inglese si chiama bioante invece per gli animali grossi ippopotamo parole grosse e quindi queste parole iconiche ti danno una percezione dell'entità semplicemente con la suono la forma della parola invece quelle arbitrarie sono quelle non so simboliche cioè sedia non è che ti dica niente su che cos'è è simbolica è arbitraria potrebbe essere anche un'altra e questi sono strumenti molto più utili appunto per poter sviluppare un certo tipo di pensiero cosa dire invece dei simboli bene c'è stato un grosso cambiamento in questo senso negli ultimi vent'anni noi adesso sappiamo che sia i Neandertal in Europa che gli Homo Sapiens in Africa hanno iniziato ad avere dei simboli materiali e l'hanno fatto nello stesso momento per esempio utilizzando dei pigmenti per colorare che sia il corpo che sia le caverne o gli oggetti piuttosto che usare non so le conchiglie per fare le collane 150 mila anni fa e Neandertal ha iniziato a farlo in Europa proprio come l'Homo Sapiens lo stava facendo nello stesso periodo in Africa questo riflette una fase che aveva raggiunto la lingua una fase evolutiva o che aveva raggiunto il linguaggio o il cervello ma quello che colpisce che dopo 40 mila che dopo 40 mila anni fa praticamente gli umani hanno iniziato a mostrare una capacità immaginaria molto maggiore molto diciamo questo nei vari posti creando immagini per esempio di esseri immaginari vedete questo questo animale sotto ecco quindi mettevano delle caratteristiche di alcuni animali le applicavano alle persone quindi anche esseri sovrannaturali questa arte proprio figurativa e questo è stato un grosso cambiamento naturalmente bene adesso per cercare di riassumere quello che io penso della mente del Neandertal ecco possiamo dire che il cervello sembrava aver avuto meno neuroni e una connettività inferiore rispetto a quello dell'homo sapiens questo detto questo però erano esperti nelle interazioni sociali conoscevano gli animali potevano fare degli utensili di pietra importanti erano molto molto abili in alcuni campi di attività specifici i loro artefatti per esempio sono difficili da fare ma sono rimasti molto stabili nel tempo vivevano in piccoli gruppi e quindi variabilità limitata per quanto riguarda le loro capacità e le loro conoscenze e la lingua era complessa irregolare e dipendeva appunto da parole sostanzialmente iconiche contrariamente e diversamente la mente dell'umano moderno molti più neuroni molta più connessioni potevano andare a creare queste diciamo idee frutto dell'immaginazione che poi appunto per esempio mettere insieme un uomo e un leone quindi diventava poi questa arte figurativa vivono in gruppi molto più grossi quindi varietà culture diverse conoscenze diverse e la lingua aveva tante parole arbitrarie che vengono usate per i pensieri per creare appunto i concetti quindi io riassumo questo descrivendo i Neandertal come esseri che hanno una mente dominio specifica tanta conoscenza ma difficoltà a mettere insieme questa conoscenza nell'homo sapiens questa mente cognitiva fluida pensiamo in termini di metafore uniamo i concetti e continuiamo a creare nuovi concetti questo è molto interessante tra l'altro perché qui in Italia questo ci ricorda del filosofo Gian Battista Vico che scriveva nel XVII secolo uno dei primi filosofi della mente e lui reagiva contro le idee di Cartesio sulla razionalità della mente e lui diceva che praticamente la caratteristica chiave della mente umana era la sua immaginazione soprattutto l'idea dell'ingegno quindi la capacità di creare una corrispondenza tra cose diverse ed è incredibile che 250 anni dopo con tutti i progressi che ci sono stati nel DNA le scoperte degli artefatti che risalgono uno potrebbe dire a Vico sì probabilmente hai detto proprio la cosa giusta qual è stata la cosa chiave della mente moderna era proprio questa era l'ingegno quindi cos'era nella mente dell'uomo di Altamura mentre stava lì sdraiato nella grotta che moriva lentamente beh probabilmente molto simile pensava molto probabilmente anche lui come avremmo fatto noi alla sua famiglia agli amici ai tempi che aveva trascorso a cantare a ballare magari aveva anche un senso di perdita forse più intensa della nostra di stare perdendo la possibilità di essere nel mondo perché era molto vicino alla natura ecco loro erano molto più coinvolti nella natura rispetto a quanto non lo siamo noi non penso che avesse un'idea di una vita dopo la vita ecco questo non credo non penso che l'uomo di Neandertal pensasse a degli esseri sovrannaturali ecco questo non credo quindi questo mi porta a dire che i Neandertal sono veramente affascinanti sono morti ma mai dimenticati perché gli uomini umani e i moderni hanno tanta curiosità e questo viene testimoniato da Bergamo scienza e quindi siamo sempre interessati al passato al presente al futuro e stiamo facendo cose importanti e tanti del Neandertal sopravvivono ancora con noi oggi grazie 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 Steve per questo viaggio in una in un'altra umanità c'è stato un altro modo di essere umani sulla terra il nostro non è l'unico e ci hai raccontato un'ipotesi su come siamo rimasti gli unici esseri umani sulla terra io ho diverse domande però abbiamo una mezz'oretta di tempo quindi poi diamo spazio a voi quindi prenotatevi già per le domande però ne ho una che mi viene in mente subito perché tu hai fatto vedere la mappa di Homo Sapiens e della sua diffusione in tutto il mondo che differenza c'è stato nel occupare il territorio da parte delle due specie a me sembra che Neandertal sia stato un po' meno migrante un po' meno mobile di Sapiens e secondo te questo è dovuto al fatto che l'intelligenza di Homo Sapiens era appunto più immaginativa più connessa a uno storytelling come hai detto tu quindi una capacità come dire di immaginazione perché molti pensano che il migrare lo spostarsi implichi raccontarsi delle storie avere immaginazione raccontare agli altri quello che hai visto e quindi richiede quel tipo di linguaggio che immagini tu quindi forse anche questo è stato un tassello del segreto del nostro successo Sì certo le migrazioni degli esseri umani moderni sono straordinarie sono arrivate in Europa benissimo ma la cosa ancora sorprendente è che sono arrivati perfino in Australia per cui non solo si sono mossi in tutto la sud-est asiatica nella foresta tropicale ma erano abituati alla foresta africana ma hanno costruito anche delle imbarcazioni per arrivare in Australia una terra che non conoscevano che non avevano mai visto quindi questo non è soltanto frutto della loro immaginazione che si combacia anche con la capacità tecnica ma anche una sete di conoscenza di esplorazione di curiosità e questo è qualcosa che mancava in Neandertal purtroppo perché erano molto rutinari hanno sì sopravvissuto e per tanto tempo quindi avevano forme di adattamento però si sono limitati a realizzare degli utensili in pietra nient'altro quindi il denominatore comune più basso quindi ha consentito loro di sopravvivere ma non sono riusciti ad uscire dai loro confini mentre gli esseri umani sì moderni e dopo le migrazioni globali in Australia nelle America poi l'altro aspetto straordinario è stato quello dell'invenzione dell'agricoltura da parte degli esseri umani moderni non appena si è conclusa l'era glaciale 10.000 anni fa a quel punto con l'agricoltura si sono create le città eccetera le Neandertal sono sopravvissute nel periodo interglaciali però non hanno fatto nulla di questo tipo non hanno inventato nulla quindi questo mostra come la curiosità la fantasia l'immaginazione degli esseri umani moderni poi raccontare la storia sul passato su quello che potrebbe essere il futuro storie che ci sentiamo raccontare soprattutto da parte dei politici non sappiamo se si realizzano o mai ma sono tipiche dell'essere moderno umano è l'ambivalenza anche del comportamento che tu vedi in Homo sapiens e che forse non c'è in Neandertal ti faccio un esempio che tu conosci benissimo quando i nostri antenati sapiens escono dall'Africa dopo pochi millenni li trovi che ne so sul mare di Cara nell'Artico a cacciare mammut lanosi in un ambiente molto diverso da quello in cui sono nati in Africa e pochi millenni dopo li hai fatto vedere tu li trovi a Sulawesi che fanno delle meravigliose pitture rupestri cioè un comportamento il primo aggressivo di modifica dell'ambiente il secondo invece creativo di opere di pitture rupestri la mia impressione è che quando escono questi sapiens ovunque loro arrivino loro cambiano il mondo attorno a loro sono trasformano la nicchia ecologica riducono la biodiversità cioè plasmano gli ambienti attorno a sé mentre questo apparentemente nel caso di Neandertal e delle altre specie umane non esiste quindi secondo te questa è una radice te lo dico in modo provocatorio della nostra insostenibilità cioè fin dall'inizio noi quando arrivavamo cambiavamo il mondo nel bene e nel male sì sì effettivamente beh non penso che fossero i cacciatori i raccoglitori moderni fino a 80.000 anni fa gli Homo sapiens erano molto simili a Neandertal in termini di utensili di compartive quindi c'è stato un po' un cambiamento proprio in quel periodo e quando gli esseri umani moderni si sono diffusi nel mondo hanno cominciato effettivamente a modificare l'ambiento utilizzando il fuoco o costruendo dei rifiugi delle case per ripararsi e quindi non usando più le grotte quindi il cambiamento però è proprio con l'agricoltura 10.000 anni fa quando è stata inventata l'agricoltura questo è stato l'errore più grande in un certo senso sì un errore fantastico perché senza agricoltura non ci sarebbero state le città la civiltà umana Leonardo Michelangelo Bacca non saremmo neanche qui al Festival della Scienza di Bergamo però non ci sarebbe solo il riscaldamento globale o il cambiamento climatico perché abbiamo cominciato a bruciare ad abbattere alberi per l'agricoltura abbiamo posto una perdita di biodiversità da allora quindi questo è stato un errore tragico da parte degli esseri umani stiamo ancora cercando di risolvere i problemi che l'agricoltura ha dato origine alle civiltà ma è stato il nostro più grande errore nella storia volevo chiederti è questo collegato a questo progetto molto bello che tu hai a Reading è molto particolare che riguarda il rapporto tra l'eredità culturale nostra e lo sviluppo sostenibile cioè come noi possiamo utilizzare l'archeologia per capire in passato come siamo entrati in relazione con l'ambiente e come possiamo farlo oggi in modo più armonioso più saggio cioè l'archeologia in funzione di una visione più sostenibile della presenza umana ci spieghi questo progetto che hai a Reading? Grazie per avermelo chiesto molti dei quesiti che cerchiamo di rispondere in archeologia come la mente dei neanderthi all'evoluzione della capacità cognitiva negli esseri umani sembrano più accademiche che reali cioè non fanno una differenza ma alcuni aspetti del passato possono essere utili per apprendere una lezione importante io lavoro nel sud della Giordania con scavi di siti alcuni sono siti neanderthi altri risalgono periodo dell'agricoltura inizi dell'agricoltura e quello che osserviamo in questi terreni deserti è che le persone nel passato avevano intrattenuto delle relazioni in modo molto migliore più empatico ci sono delle civiltà che hanno sviluppato dei sistemi ingegneristici idraulici di dighe eccetera in una terra oggi deserta con terreni boschivi che sopravvivevano grazie all'irrigazione questa conoscenza è andata perduta ma l'archeologia studiando queste civiltà antiche può essere di utilità ancora oggi in un certo senso sto anche cercando di mettere a punto un progetto proprio in Giordania per aiutare alcune delle comunità locali nel sud del Giordania i beduini sono molto poveri perché vivono in condizioni difficili e però vi sono dei siti archeologici importanti e vi sono tedeschi americani inglesi che hanno fatto gli scavi se ne sono andati e questo non ha aiutato però i locali e quindi per i beduini vogliamo avviare delle attività perché costruiscano delle attività artigianali in modo tale che possano appunto seguire le tracce dei propri antenati per cui i turisti possono visitare godere dei siti archeologici ma possono beneficiare anche le comunità locali molto povere quindi è una visione ampia dell'archeologia perché ha a che vedere con sì una ricerca teorica domande affascinanti teoricamente ma che possono anche fare la differenza nella realtà però abbiamo cercato quindi di utilizzare l'archeologia per migliorare la vita delle persone deprivate a livello internazionale adesso se riusciremo non lo so esattamente tra l'altro si sposa bene con un nuovo campo di ricerca che è l'archeologia del climate change cioè cercare di capire in che modo in passato alcune popolazioni umane sono state capaci di vivere invece in modo più sano diciamo più armonioso con l'ambiente faccio solo un'ultima domanda poi a voi ti chiedo faccio una domanda di fiction se non ci fosse stata quella mutazione nel gene TKTL se non ci fossero state tutte quelle condizioni che ci hai raccontato i Neandertal sarebbero ancora qui secondo te insieme con i Denisov e con gli altri e come sarebbe il mondo con 3-4 specie umane contemporaneamente oppure sei pessimista e pensi che le avremo comunque estinte dopo non lo possiamo sapere ricordiamo che gli esseri umani moderni hanno dovuto incontrare gli stessi problemi perché magari c'erano soltanto centomila esseri umani avrebbero potuto estinguersi anche loro sarebbero vissuti allora i Neandertal o quelli di Denisov adesso viviamo in un mondo di specie umane diverse e se si va indietro non so 300.000 anni fa c'era l'Homo sapiens quello di Neandertal Homo rectus Homo Neandertalis Denisov altri esseri umani ci sono dei geni che non riusciamo a identificare quindi tutti i modi diversi di essere umani quindi sono tante le modalità di essere umani il nostro modo per così dire ha avuto un vantaggio selettivo però avrebbe potuto andare diversamente quindi ci potrebbero essere state delle mutazioni casuali che non sono avvenute oppure la mutazione sarebbe potuta avvenire all'interno dei Neandertal e quindi avrebbero potuto sviluppare loro la connettività neurale superiore è un pensiero affascinante quello che avrebbe potuto succedere e invece non è successo dovremmo cercare di fare un po' più tesoro della fortuna che abbiamo avuto adesso a voi vedo già due mani alzate c'è un signore qui con una giacca fosforescente inconfondibile sì visto noi siamo homo sapiens siamo discendiamo e visto come abbiamo trattato per esempio il pelle rossa o la nostra storia è tutta una storia di guerre quindi escludiamo che i sapiens azioni violente dei sapiens contro i Neandertal cioè visto che magari la densità di popolazione era tale perché non c'era bisogno di litigare ecco però ci sono delle prove o cosa pensate su questa possibile esistenza di azioni violente tra noi e i Neandertal mi pare non ci siano segni di violenza diretta è stato un processo indiretto più lento grazie per questa domanda sì certe volte è una tentazione pensare la diffusione degli umani moderni in Europa poi arrivano in conflitto con i Neandertal proprio come succede come i conquistadores hanno fatto in Sud America per esempio con gli aztechi piuttosto che gli europei nell'America del Nord con i pelle non sappiamo non abbiamo diciamo delle evidenze effettive che ci sia stato un contatto diretto il più vicino a cui possiamo andare questi moderni della Romania questi esseri umani moderni della Romania sappiamo che i bis bis nonni sono stati uno dei Neandertal uno Homo Sapiens per cui abbiamo trovato questi quindi non abbiamo però evidenze di siti dove Neandertal sono stati evidentemente uccisi per esempio dall'Homo Sapiens o attaccati l'interazione tra di loro secondo me a me piace pensare che fosse di natura più consensuale non so se è ottimismo eccessivo ma mi piacerebbe pensarla così Neandertal hanno molto da guadagnare dal mescolarsi con gli Homo Sapiens ovviamente perché loro avevano bisogno di aumentare la loro diversità genetica e hanno creato gli umani moderni magari ci sono stati due o tre tentativi falliti di entrare in Europa e questo mescolanza invece li ha consentito di fare quindi non so mi piace pensare che è stato un rapporto di amore tra gli umani moderni e i Neandertal però chi lo sa magari troveremo poi altre evidenze che vengono da altri scavi non sappiamo bene appunto che cosa la genetica poi ci insegnerà però appunto per il momento è questo non abbiamo evidenze dirette di questo perché questo è un tema molto controverso approfitto per chiederti possiamo dire che la guerra cioè il comportamento di un gruppo che intenzionalmente ne attacca un altro nella storia umana è soltanto dopo il Neolitico cioè prima del Neolitico c'è ovviamente conflittualità però la guerra nasce solo quando c'è da difendere un territorio e l'accumulo di risorse che tu hai avuto in un territorio o non è vera questa tesi cosa ne pensi? bene noi sappiamo che dal Neolitico in poi c'è stato un aumento significativo di quella che potremmo chiamare violenza intergruppo sicuramente riguardava la difesa di territori quando noi andiamo ad osservare delle lotte tra i gruppi tra cacciatori e raccoglitori molto spesso riguardavano l'urlare il farsi vedere mostrare appunto gli utensili le armi ma senza che nessuno si facesse del male ovviamente sappiamo anche che c'è stato il problema del cannibalismo per esempio lo sappiamo ma normalmente è una violenza di più basso livello invece l'agricoltura ha portato ad un aumento della violenza perché una volta che tu hai pulito tutta la terra ci hai investito per coltivare la vuoi anche proteggere è cambiata la mentalità del combattere ecco io penso che ci fosse una maggiore identità della tua comunità della tua società noi siamo noi voi siete gli altri sicuramente tra i cacciatori e i raccoglitori questo esisteva molto meno e poi si è sviluppata appunto successivamente abbiamo parlato dell'uomo di Neandertal dell'uomo Sapiens però entrambi derivano dall'uomo Heidelbergensis com'è che si è estinto perché abbiamo parlato dell'estinzione dell'uno e del proseguimento dell'altro ma non abbiamo parlato da dove vengono dell'antenna comune certo è un'ottima domanda questa sì noi possiamo dire che l'uomo Sapiens e i Neandertal avevano un antenato raffrontando i loro genomi lo possiamo dire quindi guardando per esempio il tasso di mutazione che è avvenuto e questo ci porta a 600.000 anni fa e chi viveva in quel tempo appunto era il Heidelbergensis questa è la specie più importante non abbiamo però un genoma di questo Homo Heidelbergensis questo è diciamo possiamo dire una specie abbastanza indefinita però hai ragione questo poi sparisce un po' dal radar noi sappiamo che il Homo Heidelbergensis magari si è poi diffuso in Europa e ha creato l'uomo anticastor che è stato trovato soprattutto in Spagna questa specie qualcosa di questa specie ha un primo tipo un tipo iniziale di Homo del Neandertal e poi è diventato a tutti gli effetti il Neandertal quindi ci può essere questa progressione però ovviamente noi guardiamo queste specie che sono cambiate che si sono evolute che poi si estinguono ovviamente come altri animali nell'arco del tempo e quindi l'estensione del Neandertal potrebbe essere stato uno di questi cicli che esistono chiaramente di vita e di estensione e anche l'Homo sapiens magari potrebbe avere uno di questi ma questo antenato appunto l'Homo erectus Heidelbergensis è ancora molto misterioso e molta più ricerca va fatta su di questo per capire come vivevano dove vivevano e quando si sono estinti quindi una domanda davvero eccellente perché il Heidelbergensis è una specie chiave sulla quale dobbiamo scoprire di più prego qua in seconda fila grazie per questa conferenza innanzitutto praticamente l'uomo l'avete detto anche voi primitivo viveva in piccoli gruppi e che mi hanno riferito durante un viaggio in Turchia 30 anni fa che praticamente in questa comunità non si conosceva diciamo la paternità quindi quindi praticamente gli uomini si accoppiavano un po' liberamente e di conseguenza non esisteva la famiglia quando invece l'uomo passa da raccoglitore e cacciatore a diventare stanziale anziché nomade che cosa fa? diventa anche oltre che coltivatore allevatore diventando allevatore si rende conto che se tiene separati i maschi dalle femmine non nascono i bambini e a questo punto nasce la famiglia e cambia anche diciamo inverte anche diciamo l'importanza all'interno tra uomo e donna perché la donna in quel periodo venire ritenuta un essere superiore all'uomo in quanto oltre a fare tutte le altre cose generava e l'uomo no questo potrebbe anche darmi spunto a una riflessione se ci si accoppia tra consanguini si muore facilmente e potrebbe anche rinfluito all'estinzione di queste specie grazie scusatela grazie sì è una prospettiva è una domanda molto interessante considerando quelle che sono le relazioni tra i sessi ci sono delle difficoltà perché l'archeologia per anni si è parlato di uomini di caccia attualmente cominciamo a apprezzare quello che è il ruolo delle donne perché era altrettanto importante se non più importante di quelli degli uomini e non necessariamente bisognava avere la famiglia odierna in queste società dei Neandertal o dei cacciatori e raccoglitori una cosa che mi interessa è il ruolo delle donne nell'evoluzione della lingua per esempio perché sappiamo che le ragazzine imparano i bambini imparano molto più rapidamente a parlare dei maschietti quindi in queste comunità se si pensa al ruolo del maschio della femmina alle relazioni dobbiamo stare attenti a imporre i nostri punti di vista moderni su quelli di allora e sulla realtà di allora in queste comunità di primi coltivatori anche se c'erano piccole comunità magari 200-300 persone comunque vi era un movimento costante e praticamente questo salvaguardare dagli incoroci con i consaguini e questa è una differenza fondamentale rispetto ai Neandertal dove appunto invece la relazione tra consaguine era molto frequente quindi non dobbiamo dimenticare che i Neandertal comunque sono sopravvissuti per oltre 250 mila anni con grandi cambiamenti quindi è comunque una specie di successo gli esseri umani moderni e se siamo appunto comparsi 80 mila anni fa prima di arrivare a 250 mila anni magari ci distinguiamo terza fila c'è un signore qui qui lo vedi terza fila arriviamo subito c'è un'altra domanda di là all'inizio della presentazione si parlava di che strumenti venivano utilizzati da Neandertal e quali dall'homo sapiens ma come si fa a sapere la differenza su quale gruppo usava un certo strumento e quale gruppo un altro grazie mille possiamo facilmente capire la differenza perché sappiamo che vi sono siti in cui abbiamo trovato reperti fossili e anche manufatti in pietra quando troviamo quelli di Neandertal sono associati a una tecnologia di lavorazione della pietra particolare con appunto delle scaglie delle schegge di grosse dimensioni con la tecnica leva all'ua quando troviamo siti con reperti scheletrici non sono quelli di Neandertal possiamo utilizzare adattazione al carbonio o altri tipi di adattazione quando si trovano gli esseri umani moderni in Europa ci trovano tecnologie diverse sì comunque utilizzano la selce per i loro utensili ma hanno delle lame molto sottili lunghe che venivano utilizzate per le lance per le frecce quindi questa è la relazione quindi c'è una buona correlazione tra la specie e lo strumento che viene utilizzato ed è tanto forte che siamo abbastanza fiducioso che quando troviamo dei manufatti poi possiamo assegnarli facilmente a una specie particolare sì buonasera la mia domanda ritorno un attimino alla mutazione di cui si parlava cioè quale rilevanza ha la mutazione mi pare di quel gene TKN che poi va a codificare se non ho letto male la lisina come aminoacido però quale ruolo ha questa mutazione nell'aver preservato l'homo sapiens rispetto al neaderta cioè è più facile per me capire come la complessità neurale e le interconnessioni abbiano sviluppato verso il linguaggio e quindi una evoluzione maggiore però le mutazioni di per sé sono un fenomeno molto raro un nucleotide su 100.000 muta normalmente quindi di per sé la mutazione quale rilevanza può avere nell'evoluzione della specie anche se qui parliamo in realtà di tempi molto lunghi probabilmente è questo che determina la rilevanza della mutazione grazie 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 mille questa è una delle scoperte più recenti questa mutazione di questo gene è stata scoperta 3 o 4 settimane fa quindi recentissime deve essere ancora digerita per così dire dalla comunità scientifica comunque l'argomentazione chiave è che questo cambiamento di singolo aminoacido porta ad una proteina diversa e questo sviluppo porta ad una maggiore densità di neuroni che poi si sviluppano nella materia cerebrale gli scienziati hanno utilizzato per esempio dei modelli animali hanno inserito entrambi le versioni dei geni nel topi hanno misurato la densità neurale e ha detto che hanno prodotto più neuroni nell'uomo moderno che nelle underthal e poi hanno preso anche le cellule staminali dei feti umani perché nei vetrini possono far crescere gli organelli hanno inserito questi geni e hanno visto lo stesso effetto anche in queste cellule staminali quindi l'argomentazione che è stata portata avanti è che quando si trasferisce nello sviluppo del cervello una volta che il feto si sviluppa c'è maggiore densità neurale nel cervello del umano moderno che non in quello del neanderthal quale impatto cognitivo questo abbia non l'abbiamo ancora valutato appieno ma quello che si può immaginare è che le rete neurali sono più complesse quindi le capacità elaborative cerebrali sono maggiori questo potrebbe dato vantaggio competitivo agli esseri moderni ma questo deve essere ancora discusso da parte della comunità scientifica i genetisti spesso non arrivano a un consenso facilmente ma è una scoperta veramente affascinante e di nuovo è stata appunto scoperta da poco e indica forse una delle differenze cognitivi più importanti mi interessa molto perché quando ho sostenuto nella metà degli anni 90 che gli esseri umani moderni avevano capacità fluidità cognitiva più dei neanderthaliani non avevo prove genetiche non avevo prove di materia cerebrale e quindi questo mi entusiasma perché dà un supporto evidenziale alla mia teoria quindi sono molto soddisfatto di queste scoperte avanzamento di metodo formidabile affascinante perché adesso noi utilizziamo per ricostruire queste storie dati archeologici dati paleontologici dati genetici possiamo vedere l'effetto la funzione di un gene nei topi usiamo gli organoidi con cellule umane possiamo fare la comparazione col DNA antico di Neanderthal c'è una una quantità di prove diverse tra di loro che erano impossibili fino a qualche anno fa mi pare c'era un'ultima domanda da un ragazzo vai buonasera da Brassi la ringrazio per il suo intervento e poi siccome l'evoluzione è appunto il suo ambito volevo chiederle in questo caso non tanto per quanto riguarda l'uomo di Neanderthal siccome come anche lei ha spiegato aveva delle caratteristiche cerebrali e poi anche la fonazione è differente dalla nostra ma volevo domandarle se ad esempio noi prendessimo un Homo sapiens sapiens di centomila anni fa un neonato un nostro antenato e lo inserissimo nella nostra società lo affidassimo a una famiglia che lo cresce eccetera vi sarebbero delle differenze tra come può essere ad esempio un normale individuo della nostra società uno di noi presente qui oggi o delle caratteristiche che magari già centomila anni fa lo potevano potevano renderlo non so differente eccetera grazie una sperimentazione di pensiero straordinaria questa la mia ipotesi è che se prendessimo un Homo sapiens piccolissimo neonato un feto addirittura e lo proiettassimo nel mondo moderno da 80.000 anni fa crescerebbe esattamente come noi quindi le stesse capacità nell'apprendimento linguistico radicato nella cultura perché dato l'ambiente culturale il cervello avrebbe gli stessi collegamenti neurali un altro aspetto interessante è portare un bimbo del Neanderthal nella società moderna come si svilupperebbe perché spesso parliamo del fatto che gli scimpanzei non parlano ma se li mettiamo in condizioni di laboratorio gli scimpanzei alla fine imparano magari 200 300 parole quindi se si modifica l'ambiente culturale si sviluppa una capacità che non si può esprimere nel mondo selvatico quindi mi chiedo se portassimo un bambino Neanderthal nella nostra società moderna magari non crescerebbe come un Neanderthal sarebbe più simile all'Homo sapiens ma alcune dei limiti cognitivi verrebbero compensate da un maggiore uso del materiale culturale una cosa che enfatizziamo oggi nella nostra società è questa neurodiversità siamo tutti un po' diversi a livello cerebrale e sospetto che i Neanderthal si inserirebbero sì magari sarebbero un po' ammarginati ma non così tanto se fossero proiettati in una cultura materiale come la nostra oggi giorni diciamo scambiamo capacità cognitive poi dopo spesso scarichiamo molte delle nostre capacità cognitive sui dispositivi io non mi ricordo il numero di telefono perché leggo il cellulare quindi questo fa parte della mente stesa perché stendiamo anche i dispositivi tecnologici forse li utilizziamo per cose diverse ma questo magari sarebbe servito a Neanderthal a svilupparsi di più un'esperimento mentale ringraziamo tantissimo Steve Maiten di essere stato nostro ospite a presto grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille